Sulla graticola, ma insomma, si può parlare di graticola della giustizia? No, io penso che Nordio la prima cosa che dovrebbe fare è scrivere un rigo. La riforma cartabbia va abolita, perché se non si parte dell'abolizione a forma cartabbia, che ha nel sistema penale processuale ammesso tante novità che hanno rallentato il processo. Noi oggi abbiamo processi più lenti e avremo ancora più lenti nei prossimi anni. Non abbiamo velocizzato la giustizia. Ma perché non lo fa questo governo? Perché già in tanti in questo governo ci sono due partiti che erano nel governo quando c'era la cartabbia. Cioè l'unico partito che non ha partecipato al governo dei migliori è stato Fratelli d'Italia. C'era Forza Italia, c'era la Lega. Quindi sarà impossibile, sarà un'utopia annullare tutta la riforma cartabbia. Anche perché altrimenti l'Europa vorrebbe restituiti i soldi del PNRR. Perché il PNRR è stato detto, più è stato promesso che fatto, che il sistema penale processuale sarebbe stato velocizzato, come anche quello civile. Io sento i colleghi civilisti, io non sono un esperto di diritto civile, i civilisti che sono disperati per la riforma del processo civile. Mentre sul processo penale posso parlare con cognizione di causa e dirvi che non si sta discutendo dei problemi veri, ad esempio. Allora, ecco, le faccio, mi dica se... Allora, abolizione dell'abuso d'ufficio? Parliamo di alcuni punti cruciali di questa riforma. L'abolizione dell'abuso d'ufficio è un falso problema. Si dice che i sindici hanno paura della firma. Intanto i sindici non firmano perché sono quelli che sono i funzionari all'interno del comune. Mettiamo il caso in cui il sindaco vuole firmare, firma. Allora, all'interno di ogni comune c'è un segretario comunale, esperto in diritto amministrativo. Se ha dei dubbi, in provincia c'è il prefetto, il viceprefetto, il capo di gabinetto, c'è un ufficio legislativo dentro di ogni prefettura. Se tu hai dubbi e hai paura della firma, ti informi prima. Non vorrei che questa fosse la foglia di fico per dire liberi tutti. Perché l'abuso d'ufficio bisogna... Perché dice liberi tutti? Eh sì, perché abolire l'abuso d'ufficio vorrebbe dire che se un sindaco favorisce un suo parente con un atto o con una delibera, quel favorire non è configurato come reato. Quindi vi sembra giusto favorire un parente in un concorso, in un'autorizzazione, in un'agenza? E se uno dice che bisogna snellire le procedure... No, no, le snellire le procedure sono una cosa. Qua si sta parlando di abolire un reato, non una procedura. La procedura è un'altra cosa e se volete ne parliamo delle procedure. Ecco, ma invece i cambiamenti alla prescrizione, diciamo a favore degli imputati... Intanto andrebbe abolita l'improcedibilità. Prima di discutere, io ho visto in questi giorni, ci sono diverse proposte sulla prescrizione, si vuole tornare indietro, si parla della Commissione di Giustizia, ma attenzione, la prima cosa, prima di discutere di qualsiasi soluzione sulla prescrizione, bisogna abolire la prescrizione voluta dalla cartabia. Quella è la base di ogni poi ragionamento. Perché? Perché con l'improcedibilità io non vado in un senso. L'improcedibilità vuol dire che se io non finisco un processo, non arrivo a sentenza di secondo grado entro due anni, la sentenza di condanna di primo grado è come se non fosse mai avvenuta. Quindi vi rendete conto? Cioè, perdiamo tempo. Quindi poca giustizia per i cittadini in questo caso. Denegata giustizia. Immaginate le parti offese di un processo per omicidio colposo. Non avranno giustizia. E quindi... Ma avete il governo andare in questa direzione? Ma c'è già questa, già con la cartabia. Con la cartabia. Ma loro vogliono che si torni ancora indietro in modo tale da ridurre i tempi, i margini, per arrivare subito alla prescrizione. Si dice per deflazionare. Ma noi non dobbiamo deflazionare. Dobbiamo creare un sistema penale, processuale, detentivo, tale da dare risposte a chi ha sete di giustizia. Cioè torneremo ai tempi di Berlusconi con la Cirielli... Ora vediamo gradatamente fin dove si vuole tornare indietro. E la stretta sulle intercettazioni? Sulle intercettazioni è una follia. Permettetemi due esempi così ci capiamo subito. Io faccio un'indagine per traffico internazionale di stupefacenti. A un certo punto due che parlano al telefono parlano di una corruzione. Bene. Io quella intercettazione avvenuta nel processo per traffico di droga non la posso utilizzare per la corruzione, per il reato di corruzione, perché si ritiene che sia un'intercettazione avvenuta in un altro processo. Invece, a contrario, io posso utilizzare un'intercettazione se anche in un processo di mafia o di droga, se uno per bisogno ruba il latte in un supermercato, io la posso utilizzare, quell'intercettazione. Sa perché? Perché per il latte, per il furto, c'è l'arresto in fragranza. Altrimenti io non lo posso fare. Le faccio un altro esempio. Sono molto diffusi, soprattutto a Napoli, in campagna. Le truffe danno degli anziani. Si telefona e si dice guarda, tuo figlio sta morendo. Servono subito soldi, eccetera. Vanno a casa, si prendono soldi, ori, eccetera. e si dice io non posso arrestare quelle persone perché per quel tipo di truffa non è previsto l'arresto in fragranza. Quindi quell'intercettazione non la posso utilizzare perché non c'è l'arresto in fragranza. Questo è un pasticcio che esiste oggi nel sistema italiano. Quindi vi rendete conto che stiamo facendo una giustizia di classe. Cioè io, quello che ruba il latte al supermercato lo posso arrestare con quell'intercettazione. Il corrotto e il corruttore non li posso condannare o giudicare usando l'intercettazione dove parlano al telefono di corruzione. Ma è una schifo.